ahahah allora dai perchè c'è già marchetto che chiede l'accesso a tutte vabbè allora è una fortuna perchè dai manu vai vai di là aspetta provatemi a video di ora manu mi dà me mi squadra con me manu no no mi stare con matex dai ragazzo no raga io voglio just redwood ragazzi calcolate che io stasera per un po' giocherò con prizza e balde anche perchè poi con balde ancora non c'ho mai giocato quindi devo giocarci soltamente priest poi è il mio compagno di sesso si esatto poi c'ho qua gabriel magic gabriel magic tanto giammarchetto conta 2 o 3 o 4 o 6 si ma sa che giammarchetto lo kick su 6 cheat ok 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 vai miei cari compagni scegliete ecco eccolo madonna attenzione c'è riuscito di fortuna che hai user disconnected ecco è crashato mentre uno crasha un altro non è crashato è uscito è poi morto no è tornato è un tumore è un tumore perchè perchè cosa cosa è successo salvatore ho già marchetto benissimo te perchè che è rutevole di user fuse brutto luridaccio pezzo di merda io lo so io sparo l'ostaggio ah ma a te dimmi visto che tu sei un negroni sono una bella bionda sulla bici si mette un angolino un attimo ah ah va bene guarda aspetta che mi lucido le palle sulla tasta di più su un attimo ah scusa non lo vuoi quello pelato no dai se tu non mi dici che non vuoi quello pelato e lo vado perché tu scusi ma ascoltami pristetti si messa la visiera perché sapevi che dopo noi facciamo del sesso ahahah evitando gli schizzi in faccia che è la mia città e che io ti ammio la visiera nemmeno tempo per respirare guarda sinceramente ho sbagliato e chiedo scusa ahahah non unirmi all'orcia col robottino se vuoi allora fate mettere le axe non abbiamo durato un cazzo 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 non puoi sapere dove mi inchiazzano eccoli 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 ti individuo ai guarda sparate le corazze allora guarda sparate le corazze ma tex vieni qui fuori stronzo nooo zan 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 ma metto una puzza non ti girare va bene così eh perfetto oh grazie no sento puzza di matex avevo messo pure il prolungatore o il silenziatore quello che prolungatore il prolungatore il prolungatore il prolungatore oh che metti qui ah madonna cosa a tex stai rischiando tantissimo a stare fuori lo so ma infatti ma l'ho già visto infatti sto fuggendo gambe levate aaaah questo selvatico che va c'è vacca adali qua guarda di questi che fanno i buchi attraverso il muro e penso che non li vedo che che fai che fai bui difendimi a ver se non c'è povero b che fai che fai che fai la telecamere in questo posto di carlo non c'è h lo sarei tesa 1 o non c'è aspetta marquette ero che ero aspetta aspetta se lo vede la camera di dentro qui dove ho fatto per un che ero qua qua che ero? ahhhh ma ho sparato avevo cliccato annazzo grande fritto, grande video avevo pure cliccato e cliccato e darmi si clicca avevo cliccato hai cliccato il grilletto hai cliccato il grilletto che ruido è? mi sono spaventato dai mattex vengo da te nananananananana batman c'è mattex io nananananana no no nananananana batman nananananana nananananana batman mattex guarda per aver fatto questo guarda puoi fare la colonoscopia tranquillamente senza problemi no just ready mi ho fregato il frasco guarda ci ho pensato io guarda non c'è bisogno che mi allarghi neanche vasillino ci ho pensato mattex just ready a grunt io amo just no io amo il mondo dai facciamo i tattici io amo mattex oh che bello facciamo una foto di gruppo mattex chi ha scorreggiato? io non lo sento io e bald abbiamo la maschera oddio ho visto termite un attimo oscillare quindi maschera può essere mute o smith ara sinceramente potrebbe essere anche uno che fa del sadomaso però non volevo dirtelo ragazzi rinforzate nooo ma tu già te lo scoprirai più avanti quando sarai più grande che bello che come che bello non è bello non è una cosa bella no no ormai a me avete detto a me avete detto oh ragazzi chi è quel pezzaccio di merda che piazza le telecamere? un just red guarda ancora ci prova e le guarda poi forse è la seconda perchè forse ha sbagliato guarda continuo a guardarle non è convinto o se cascate su una mia trappola e l'orso rito che l'ho messa proprio un po' e mi passa di fianco e manco mi vede il drone ah no forse si è accorto aiuto non mi avrai mai stronza ma tex ma che cosa guardi con lo schermo di così interessante? no perchè io no eh mi stavo divertendo un po' e vedevo lo statico stavo guardando youporn no Pornhub adesso giusto youporn perchè ormai è fallito uh attenzione priz ci va pesanto no 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 è fallito io matex ma mi dispiace già sei fallito lo so che tu ci andavi sempre esatto è vero un po' di matex che ci andava troppo spesso ha detto no no meglio di non basta chiudere oddio ma perchè sempre io devo andare dove stanno i nemici non poteva stare da quel cartavarte matex oddio priz mi hai fatto prendere uno spavento che cazzo di pipistre oh cazzo di pipistre spero di venire in te ma batman madonna prizzi cioè ti sei salvato non so come sa no 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 balde aiuto balde aiuto balde grande balde grande oh cosa cazzo di pipistre la faccia un marchetto buon madonna mi ha messo nel caprazi il caprazi ok priz è tutto nelle tue mani cazzo di pipistre cazzo di pipistre oh guarda lo stagio i piedi guarda guarda lo stagio già sta cosa oddio oddio no 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 oddio ma che cazzo sta facendo l'ostaggio ce l'ho portato io la notta è glitchado taglio la gola taglio la gola taglio la gola guarda tutta questa violenza sempre ma se gli spari un proiettile non muore giusto no se gli spari in testa non muore comunque a parte le scherze ma come balla alla confusione ma che cazzo fa ma per me si sta tipo accoltellando tipo i samurai ma so ma so no uno sta morendo già sta morendo sta morendo sta morendo è uno pazzo oddio è in piedi ma è in piedi grazie ma è in piedi che ero ma guarda ma guardalo che ero però ma non doveva morire ma non doveva morire la mano dal cielo proprio no dai non doveva morire ora però ci dovete un round guarda non doveva morire allora noi stiamo prendendo il punto dove sponare è contesa ecco ecco dimmi che dimmi che qualcuno stava registrando vero io l'ho registrata grande questa va sul gruppo oh Vector mi ha scritto che ci sono due spazi in partita un uomo no due sì ci sono due comunque io voglio vedere cosa succedeva se lo rianimali però io scopo due proiettini un petto ma cazzo ma non è che c'è un giubbetto né niente figa perché i doloriani i morti i morti perché lui vola sbagliare la propola 10 secondi ragazzo imitando imitate il sanetti i morti 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 ok manu spostati sposti manu e cosa vuoi fare oh facciamo così ah la fregna ahahah 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 ah 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 qualcuno nerpie le delle gambele del 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 ok adesso io voglio vedere qui come farete passare in sta porta voglio proprio guarda sono curioso di vedere guarda c'è no balde viene a vedere se qualcuno sopra arrivo arrivo oh ma che cazzo ma che cazzo non infame fu no no che capi su test di drappone il frosta bastardo vieni qui brutto pezzo di merda via via fuggi fuggi finchè poi matex ho paura non mi lasciare solo matex ti prego no e ci seguo tu qui live no vai via aah no via 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 cosa? vabbè io sparo ma lui è una pietra dai lasciate però dai non state dentro il black hawk 2d che passa black d no avete visto il mio drone cioè spiegatemi cioè avete messo la telecamera in bagno ma che cazzo c'aveva le morroti? è il tipo cacciato uno squizzo di rosso per terra porcaroi porca Giancarla porca Giancarla è individuato ma siamo full guys intanto matex ha la connessione overpower oddio connessionato eru guarda i tuoi punti no ci c'è un marchetto ma aah che bello i miei punti infamia vai è tuo è tuo fallo dove? è lì a destra avanti da dietro dietro sinistra sinistra non è la porta ecco è lì è lì è lì è lì dove? eh vabbè vabbè vado a fare ieri vedi vedi il tuo pene boom oddio le gambe di puse eh va bene dai ok eh ma tex con una mano eh Batti la mano, lo ziglo zaglo, un violino, un bacino... Ragazzi mi è uscito dal TeamSpeak! Noooo! Ritorna Prince! Speak con due! Vai Prince è tornato! Scegliere... Cioè la gente ci è lamentato un sacco effettivamente Dicono tutti che è forte ma pronti a giocare Cioè riescono a cosa a caso riescono Dice che però si lamenta che muo' Si si si, si lamenta sempre quando muore E poi guarda, se non c'è il Bistard non vincevamo Eh si, a me quello mi fa arrabbiare Infatti, io sono l'hater di Bistard Dittemi una come cazzo, io non lo seguo sinceramente Bistard è un Bistard Ogni volta che muore E' uno youtuber con 100.000 passo scritti E tu di livello coso Quello l'ho, quello l'ho Cioè è meglio ma Cioè è meglio Mantex di Bistard Ok, quello è vero Ascolta devo parlare come un complimento o come un'offesa scusami Quello il tuo è meglio Non posso aver fartela crede che... Non è che... Offesimento eh Oh cazzo Infambia? Ho chiesto... Qua... Vada dietro, vada dietro Una una troia Pucufu Da Marchetto Micografo, a testo Masi A replate daUh Univuro Qua, la finestra Qua Attento eh No di il chero barato perché non c'è la pietra se hai detto a posto c'è l'ulto scopo non lo voglio posto posto testo 4 aspas la roba non finisce più a parlare a parlare un'altra cosa tassi fortificati dove le fasi enti che che mattexi deve concedere e allora se non ho poi già marchetti 4 sento puzza di cipo e non arrivo nooo stavo guardando le telecamere vedi non usare whatsapp attento red scontro finale chi vince 1 out 4 remaining ma cosa solo jam marchetti è rimasto con fucilato jamma ai ma corri no no ma nel culo merda madonna non ci credo guardalo aspetta ma jam marchetti ha ucciso prima l'ostaggio ha ucciso prima l'ostaggio ha ucciso prima l'ostaggio BOOM ma piccolo perchè stavo trasportando l'ostaggio e non appoggiava neanche i piedi in tutto questo che dubbia perchè le gen che schifo ah ah bei tempi dai dai dal l'altro era una volta ha 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 ago Grazie a tutti.